La provincia della Spezia ha chiuso due importanti cantieri per altre tante opere infrastrutturali di messa a norma e sicurezza che vanno in corso all'edificio che ospita l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Parentuccelli a Zella di Sarzana. Gli interventi, proprio per evitare sovrapposizioni con l'attività scolastica, si sono svolti nell'arco del mese di agosto con una programmazione ed una tempistica di esecuzioni prioritarie. Nel primo caso si è trattato di un intervento di messa in sicurezza edilizia che ha riguardato la rimozione delle frangi sole dello stabile, il tutto a completamento del programma di adeguamento statico-sismico già attuato per un importo pari a 69.500 euro. Il secondo intervento ha riguardato la messa in sicurezza generale dello stabile per un importo pari a 25.000 euro. Queste opere rientrano nella pianificazione del completamento del recente intervento di messa in sicurezza statico-sismica finanziato dal Ministero dell'Istruzione che si è concluso all'inizio dell'anno e che ha visto eseguire e consegnare lavori per un importo pari a 1.100.000 euro dedicati all'edificio del Parentuccelli Arzelà. Sempre sull'edificio che ospita l'Istituto, secondo la programmazione in corso, è previsto un intervento di messa a norma e riqualificazione della struttura che ospita la piscina. Sulle scuole spesine prosegue l'impegno costante per arrivare al completamento del piano di adeguamento alle norme antisismiche, ha detto il Presidente della provincia Peracchini. Uno sforzo che le amministrazioni, i tecnici e le ditte incaricate stanno facendo per garantire la riapertura delle scuole con tutte le modifiche necessarie e concluse in modo da non unificiare con le attività didattiche. Determinante a questo proposito è anche il costante contatto con le dirigenze scolastiche, una collaborazione ed un coordinamento che giorno dopo giorno sta garantendo che i risultati raggiunti siano le giuste risposte alle necessità che vengono presentate, ha concluso il Presidente della provincia.